Problemi per Warah Musk, che non è proprio una cavalla da seconda fila. Partiti. C'è lotta per il comando con Nonna Pina, che sta assumendo la testa. Poi all'esterno c'è il numero 4 di Nino Bell, con all'interno il numero 2 di Nordbrook. Con Nino Bell che finisce con lo sbagliare contemporaneamente con Nordbrook, che coinvolge il numero 5 Trevisonda, e così a comando c'è Nonna Pina. Mentre ha spostato molto prontamente il numero 9 di Nia Jet, con Marcello Matti, che sa che Nonna Pina corre sotto, e così va lui al comando. Ma dritta anche Nilema, che però sbaglia, sbagliano tutti quelli che si affacciano sul battistrada. Rimane all'esterno Trevisonda PV, seguita dal numero 12 di Nine Fertweiss. In terza ruota c'è il numero 11 di Niemeyer-CR, caotica la corsa, con Otrevisonda che va dritta su Nia Jet, e dopo 700 metri di gara, Otrevisonda PV battistrada ai 800, passati comunque in 59.1 da verificare, molto veloce per la categoria. Otrevisonda PV prende 3 di margine nei confronti di Nia Jet, Poi all'esterno il numero 12 di Nine Fertweiss, siamo alla chilometro in 1.14.1 per Otrevisonda PV, che adesso viene comandata, Nine Fertweiss che cerca di scendere davanti a Nia Jet, che non riesce a riorganizzarsi. Poi gli altri, ha spostato anche Nannarella IES, Otrevisonda, un altro parziale in 14.7, Gennaro Paggileola sostiene, Nine Fertweiss che cerca di riprendere fiato, ha spostato il numero dei sogni, così come Nannarella IES, quando siamo all'uscita della curva, Otrevisonda PV, che cerca di difendersi, adesso risposta a Nine Fertweiss, all'esterno Nannarella IES, i cavalli sono tutti un po' stanchi, con Nannarella IES che a largo di tutti, coi in crisi, Otrevisonda PV passa e vince Nannarella IES, mentre per il secondo all'interno, Nia Jet, probabilmente rimonta ancora a Otrevisonda, ma è tutto da verificare. La vittoria per Nannarella IES, Marco Di Caterino, 6.12, la sua quota, che aspetta e piazza la progressione ai 400 finali, mentre guardate la lotta per le piazze, con Nannarella che a tempo al chilometro di 1.15, 4, 6.12 al tot e va a vincere, Nia Jet che probabilmente rimonta, Otrevisonda PV. che aspetta la progressione ai 400 finali, Grazie.